Salve, sono Lucas. Io ho sempre cucinato molto volentieri. Quando però mia moglie mi ha chiesto di preparare dei dolci, mi sono trovato un po' in difficoltà. Poi lei ha scoperto in internet questo corso per pasticceria dello chef di Giglio. La sua presentazione mi è piaciuta e quindi ho iniziato a fare il corso di pasticceria di base. Da quel momento si è aperto un nuovo mondo per me. Quello che mi affascina nel corso è soprattutto il fatto di imparare a capire quello che si fa e perché lo si fa. Non è solo una questione di dosaggi. Si devono avere conoscenze di chimica, di fisica, di biologia ed è anche molto importante lavorare in modo preciso. Questo però non significa che venga a mancare la creatività. Lo chef di Giglio spiega in modo chiaro e accurato tutte le procedure ed anche il loro significato. Tu puoi poi con le conoscenze acquisite variare il tuo piacere. Inoltre ha anche un eccellente supporto che può essere di aiuto se hai dei problemi. Così ho fatto il corso di pasticceria di base, il corso di pasticceria classica moderna ed adesso faccio il corso di pasticceria salata. Insomma, se volete imparare a fare torte, pasticcini, mignon, macarons, oppure pizze, panni, focacce e così stupire i vostri parenti o amici con i vostri risultati, vi consiglio caldamente di fare questi corsi dello chef Andrea di Giglio. Vi garantisco che non ve ne pentirete. Ciao. 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 Ciao.